Ciao, bentornato oggi sul canale Spettacoli Televisivi, con notizie come La cantata rosa Alba Pippa, in arte a risa, è innegabile che abbia subito una trasformazione a dir poco radicale negli ultimissimi tempi L'artista ha perso molti KG. Il prima e il dopo.La trasformazione incredibile di Arisa, come è diventata la cantante nel giro di pochissimo tempo e perché? A cosa è stata dovuta tale trasformazione? KG persi e cambio di look Sempre più bella, sensuale e femminile.Arisa e KG persi.Rispetto a un anno fa la cantante, amatissima dagli italiani di ogni età, ha un corpo più magro Alla richiesta di raccontare quale dieta abbia fatto, lei preferisce rimanere molto sul vago Raccogliendo però alcuni dei suoi tanti messaggi social si intuisce che il percorso di dimagrimento è stato l'insieme di più fattori, dal ballo alla consapevolezza di sé, che oggi sta raggiungendo al massimo grado E da qui la decisione di rimettersi in forma, di diventare più femminile e di iniziare a piacersi di più anche fisicamente parlando Tanti scatti, per lo più recenti, compresi quelli senza veli, lo attestano, ora lei si ama Gli step del suo cambiamento.Tuttavia c'è anche da dire per dovere assoluto di cronaca che lei aveva iniziato a inscenare una sorta di cambiamento anni fa Via in primis gli occhiali da vista dalla montatura enorme e scura che l'avevano contraddistinta ai tempi dei suoi esordi, così come abiti un po' troppo castigati I capelli poi hanno subito una vera e propria rivoluzione, dal caschetto a passare al rasato a lungo In seguito la rivelazione, indossa parrucche che cambia anche con una certa disinvoltura, per via di una malattia che induce a strapparli con furore E poi il passo successivo è stato quello di perdere anche quei KG che le davano fastidio e che non le permettevano di indossare quegli abitini aderenti che tanto avrebbe voluto indossare e che oggi sono appesi copiosi nel suo armadio Ballando ballando è diventata più snella. Lo scorso gennaio, durante una puntata di Amici anche Maria De Filippi notò il suo grande dimagrimento Non per nulla le disse, che magra che sei, per poi chiederle come fosse riuscita a diventare così snella E Rosalba, con il suo solito candore, ha risposto, è, perché ballando, ballando, facendo chiaramente riferimento alla sua partecipazione con tanto di vittoria al famosissimo programma danzereccio di Rai 1, condotto dalla spumeggiante Millie Carlucci che l'ha voluta fortemente nel suo show Chiaramente poi anche tanto sport e alimentazione sana, controllata e bilanciata hanno fatto poi il resto Grazie per aver guardato l'intero video. La notizia è qui per finire, mettete mi piace e commentate, in particolare cliccate iscriviti al canale, per ricevere le ultime notizie Ciao e ci vediamo nei prossimi video Ciao e ci vediamo nei prossimi video Ciao e ci vediamo nei prossimi video Ciao